Chi semina vento raccoglie tempesta. Il detto biblico appare più adatto che mai a descrivere la situazione di queste ore in Palestina, nei territori occupati, le proteste furiose che sono scoppiate dopo l'annuncio del riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele da parte dell'amministrazione Trump. Ma cosa sta facendo Benjamin Netanyahu per restituire il regalo storico che gli ha fatto quest'America? È l'interrogativo più pressante in queste ore, perché in un mondo normale, in una situazione logica, c'era da aspettarsi proprio questo, che all'annuncio storico di Donald Trump sul riconoscimento di Gerusalemme, un gesto ovviamente prevedibilmente esplosivo, visto dal punto di vista dei palestinesi e di tutto il mondo arabo, come diversi leader arabi avevano detto a Trump nelle ore precedenti quell'annuncio, bene, visto che era prevedibile tutto questo pandemonio, ci sarebbe stato da aspettarsi che Trump e in particolare il primo genero Jared Kushner avessero in qualche modo concordato, a priori, preventivato, programmato insieme con Benjamin Netanyahu una fase 2, cioè che dopo l'annuncio americano ci fosse un annuncio da parte del governo israeliano di qualche gesto importante, significativo, a sua volta diciamo generoso nei confronti dei palestinesi. Questo sarebbe stato uno schema classico in cui la mossa americana avrebbe avuto un seguito. Per adesso questo capitolo non arriva, non c'è nessun gesto significativo da parte di Israele che renda in qualche modo credibile, restituisca verosimiglianza a quell'affermazione di Trump per cui il processo di pace rimane aperto. E allora viene da chiedersi se siamo in un mondo normale oppure se questa amministrazione Trump proceda nella logica dell'età del caos, per cui le sue mosse non sono pianificate, non si pensa alle conseguenze che scateneranno. Questo forse non stupisce da parte di Donald Trump, il cui temperamento è da età del caos, stupisce un po' di più di Jared Kushner invece, o Kushner. Il primo genero ha un'immagine di persona più intellettuale, più gelido, calcolatore, ed è lui quello che secondo il suocero dovrebbe portare avanti il piano di pace tra israeliani e palestinesi. In questo momento non si vede proprio come potrebbe farlo.